Arriva in approvazione il cura Abruzzo, naturalmente arriva in approvazione grazie all'atteggiamento di proposta di tutta l'opposizione, in particolare del Partito Democratico e del centro-sinistra, per una legge che nel giro di due settimane è stata stravolta giorno per giorno. Pdl1, Pdl2, Pdl3, Pdl4, quasi come i film di Rocky ci sono stati sottoposti, così come ci sono stati sottoposti testi diversi, ci sono state sottoposte anche poste diverse di investimento per il cura Abruzzo. Si è partito di 19 milioni, 25, 43, 57, oggi arriviamo in aula e i milioni trovati sono 60 e adesso ci promettono addirittura di un progetto di legge che potrà arrivare a 107 milioni. Ma tutto questo è stato garantito grazie all'opposizione che ha avuto un atteggiamento molto, molto, molto propositivo a vantaggio di tante categorie abruzzesi. Pensate che parte di questi fondi sono impegnati, prenotati con un consuntivo che ancora non c'è e che probabilmente non verrà approvato neanche entro l'estate. Quindi molte di queste categorie, molte di questi bandi arriveranno solo molto, molto in ritardo per tante famiglie e tanti imprenditori che invece hanno bisogno oggi di liquidità, di fondi perduti per poter reiniziare. A fianco a tutto questo c'è stata naturalmente la nostra proposta che ha migliorato moltissimo questo testo. Abbiamo parlato di zone rosse, è una proposta del Partito Democratico e di tutto il centro-sinistra e lo racconteremo anche in una specifica conferenza stampa. Abbiamo parlato di asili e in particolare le strutture educative 0-6 anni che erano state molto penalizzate. Abbiamo parlato di bed and breakfast, di tirocini formativi, soprattutto di quelli della giustizia che sono rimasti da tantissimo tempo fuori dal mondo del lavoro. Insomma tutte queste sono state delle nostre proposte che hanno sicuramente migliorato questo testo, ma su questo testo nutriamo ancora molti dubbi di legittimità. E assieme a questo rivendichiamo una carenza di coraggio e una proposta di legge arrivata con specifici codici a teco per restringere di molto il campo. Adesso si investiranno per le imprese circa 40 milioni di euro a fronte di 80 mila imprese. Significa veramente pochi spiccioli.